E' stato aperto al pubblico nella Florida un nuovo acquario costato mezzo milione di dollari dove si può comodamente osservare la vita della fauna sottomarina nel suo ambiente naturale. All'ora dei pasti il guardiano chiama raccolta i voracissimi porci marini. Razze gigantesche ed altri strani mostri marini circolano nella profondità dell'acquario che ospita anche bellissimi esemplari di testugini. Perre...